Buongiorno a tutti, allora qualche minuto per raccontarvi cosa è successo ieri nell'ambito del Comitato Aziendale di Bologna dove c'è stato uno scontro abbastanza importante tra le organizzazioni sindacali della Medicina Generale in particolare tra SNAMI, FIMG e poi SMI ma SMI un po' meno diciamo, nel senso che il grosso scontro era tra chi ha sottoscritto l'intesa CAO quindi in questo caso FIMG con la Regione e ovviamente un'intesa che non ha portato il personale che serviva per coprire le festività di lungo periodo quindi SNAMI si è vista richiedere dall'azienda USL di Bologna un supporto per le due settimane per trovare il personale per le due settimane delle festività insomma di lungo periodo bene, che cosa succede? che ovviamente era già stato esperito tutto il possibile con il personale CAO quindi erano già state chieste tutte le disponibilità e ovviamente per fare i CAO sono necessari titoli formativi è necessario un percorso, un inserimento eccetera eccetera gli unici altri che sistematicamente hanno la possibilità, diciamo l'automatismo perché possiedono già tutti i titoli e la formazione necessaria anche per l'emergenza sono i medici di emergenza territoriale dato che anche il personale dipendente era già stato utilizzato e inserito nei turni bene, che cosa succede? FIMG presenta ampie lamentele perché SNAMI ha sottoscritto un progetto di 15 giorni in cui i medici di emergenza territoriale, già tutti a tempo pieno già sopra l'orario, già eccetera eccetera quindi già con la loro divisione di festivi, prefestivi, superfestivi notti e chi più ne ha più ne metta per darsi disponibili per le turnazioni in CAO e ovviamente lo fanno con un contratto diverso una formazione diversa, un background e un profilo diverso e sono medici che non hanno accettato la turnazione secondo il verbale di intesa FIMG perché non hanno quel contratto di assistenza primaria ciclo orario quindi al pari dei dipendenti che prendono un'altra retribuzione anche i medici dell'emergenza che hanno fatto questi turni hanno preso un'altra retribuzione ed è scoppiato uno scandalo secondo FIMG eccetera eccetera ora, noi abbiamo spiegato intanto questi principi che se a un certo punto tu non trovi nessuno e l'azienda deve tenere aperto il servizio lo può chiedere e ci viene mossa la critica che noi non avendo firmato il verbale di intesa regionale criticando e attaccando continuamente i CAO ovviamente non dovevamo dare una mano nel momento del bisogno e questa è una sonora stupidaggine che però mi rendo conto possa in qualche modo magari su qualcuno non pienamente informato non pienamente consapevole delle dinamiche possa anche magari attecchire in un qualche modo bene, per questo motivo questo video allora, le organizzazioni sindacali viaggiano su un principio di rappresentatività democratica secondo ovviamente le tessere FIMG quando ha sottoscritto il verbale di intesa CAO aveva il numero di deleghe necessario per sottoscrivere autonomamente anche se le altre organizzazioni sindacali avevano scritto e avevano soprattutto noi avevano elencato in forma scritta tutta una serie di punti una serie di criticità il fatto che non erano regolate le graduatorie non erano regolati i rapporti reciproci con la continuità assistenziale non c'erano una serie di cose che sono ovviamente tutti i problemi che sono venuti fuori adesso bene, FIMG aveva il numero di deleghe necessario in quel momento per poter sottoscrivere quel verbale di intesa e i medici che hanno accettato di lavorare secondo quelle regole scritte in quel verbale di intesa le hanno fondamentalmente accettate questo noi non l'abbiamo accettato ma non abbiamo mai detto che siamo contro l'impianto di ambulatori territoriali siamo contro questo impianto di ambulatori CAO perché questo impianto va totalmente rivisto secondo noi perché i medici dei CAO vanno integrati nei nuclei di cure primarie devono essere parte della medicina generale integrati a medicina generale e non sostituti di punti di primo intervento e pronto soccorso che chiudono non sono dei pronto soccorso bonsai devono avere una pubblicizzazione una campagna di informazione pubblica completamente diversa da quella che stiamo vedendo eccetera 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 e noi siamo i primi ad avere l'interesse a tutelare anche i medici che magari con meno consapevolezza con meno diciamo esperienza anche della parte negoziale sindacale perché molti colleghi sono specializzanti si sono appena affacciati al mondo del lavoro quindi non conoscono bene tutte queste dinamiche noi come snami siamo i primi interessati a tutelarli e a far capire che i limiti di quel verbale d'intesa sottoscritto da loro evidentemente oggi si palesano in tutta la loro incompletezza e che quindi per far lavorare qualcuno H24 a Natale a Capodanno eccetera eccetera servono le incentivazioni prefestive notturne eccetera eccetera servono ovviamente i reperibili perché se uno è a casa in malattia che cosa succede? se uno si ammala o se uno mentre va a lavorare fa un incidente e chi ci va a coprire il turno? come si fa? c'è il reperibile? non c'è il reperibile? ci sono tutta una serie di strumenti contrattuali e negoziali che dovevano essere messi in atto ma non c'è nessun accordo non c'è un accordo nazionale che descriva i CAU e le regole di ingaggio non c'è un accordo regionale non c'è neanche un accordo locale c'è un verbale d'intesa sottoscritto solo da loro quindi che loro oggi vengano ad attaccare Snami perché Snami invece seriamente ha dato una mano alla controparte perché questa logica che siccome noi non abbiamo firmato i CAU poi dobbiamo affossare a coltellare l'azienda sanitaria e interrompere il servizio in tre punti erogativi su quattro per le festività non mi sembra una cosa che in un rispetto tra persone serie tra professionisti della parte sindacale e della parte pubblica sia la modalità corretta di interagire questo non significa che noi daremo manforte e supporto anche comunicativo alla politica organizzativa voluta dalla regione perché le aziende poi eseguono quello che la regione gli dice di fare in questo campo quindi se la regione gli dice di aprire i CAU le aziende aprono i CAU noi non condividiamo l'impianto che la regione ha inserito sui CAU non l'abbiamo sottoscritto ma detto questo una volta che l'hanno aperto quello è perché? perché si è aperto grazie a un numero di deleghe che i medici avevano dato fiduciariamente all'altro sindacato che le ha firmate altro sindacato che oggi però non mi può venire a fare le pulgie a me perché ho dato una mano come snami all'azienda sanitaria in difficoltà perché in altre aziende quello che è successo è che sono stati fatti gli ordini di servizio a medici di continuità assistenziale chiamiamoli così spostati ovviamente l'ordine di servizio non può essere fatto a un libero professionista convenzionato e quindi insomma siamo su un bel punto di siamo sui carboni ardenti ma snami parimenti quando gli è stato siamo stati interpellati anche noi abbiamo scritto anche noi l'azienda gli ordini di servizio per chiudere le sedi di CA per tenere aperti di CAO non si possono fare e quindi cioè stando questo scenario l'unico modo per tenere aperto durante le festività questo era quindi diciamo le politiche di attacco che snami in qualche modo oggi per aver garantito la copertura ovviamente facendo pagare correttamente i professionisti dell'emergenza che intanto sono medici dell'emergenza e quindi hanno già un loro orario e quindi hanno già un loro tempo pieno e quindi hanno già una loro formazione per farli lavorare all'interno di queste strutture a Capodanno e a Natale dove gli altri non ci sono andati non è che li puoi pagare a tariffa base parliamoci chiaro e non si può neanche dire al 23 di dicembre per il 24 che si fa chissà quale show una volta che tutti sono stati interpellati e tutti hanno già detto che non sono disponibili a lavorare per le festività medici CAO intendo per cui questo è allora noi non abbiamo assolutamente nessuna intenzione di come dire rimanere muti davanti a quello che viene detto in alcune soprattutto dalle altre organizzazioni sindacali dicendo lo snami però ha firmato ha firmato cosa ha firmato che per 15 giorni visto questo casino perché ovviamente non ho visto tutti questi dirigenti FIMG che hanno firmato gli accordi CAO andare a fare il CAO perché io a Natale io Roberto Pieralli il pomeriggio di Natale le mie 6 ore le sono andate a fare pur non condividendo l'impianto anche perché siccome sto attaccando quel tipo di modello lo attaccano solo perché ho una certa esperienza lo conosco e ho visto come è stato strutturato ma poi lo devi anche magari vivere una volta per vedere quali sono i pro i contro e i limiti se ne vuoi parlare correttamente quindi in questa contingenza io dirigente dello snami sono pure andato a fare il turno CAO non ho visto i dirigenti della FIMG andare a coprire i turni quelli non li ho visti il giorno di Natale il giorno di Santo Stefano il giorno della Befana e dire che l'hanno fatto loro quell'accordo quel verbale di intesa detto questo vi ringrazio di aver ascoltato questo breve video e ci aggiorneremo prossimamente e ci aggiorneremo